Ciao popoli Lega Nerd, bentornato a un nuovo appuntamento con Binge Stream, la nostra rubrica dedicata alle serie tv dove guardiamo, anzi parliamo insieme di tutte le serie tv che passano per le piattaforme on demand. Oggi giornata dedicata, non so se avete, sono un po' in tema, sono leggermente, leggermente leggermente a tema per la nostra puntata, ovviamente puntata dedicata a Sabrina, ho evitato di mettere la parrucca bionda, ho messo solo il frontino, ho lasciato i miei capelli rossi che vabbè, questa volta non mi sono masca in genere, tento sempre di fare il mio cosplay da Sabrina, ma a sto giro, prossima volta, prossima volta così a buffo per la recensione, non so, di una prossima serie tv random mi vestirò da Sabrina, così, perché così non ve l'aspettate e fa più scena, è più ficuo, è più ficuo. Va bene, bando alle fesserie, bando alle ciance, io sono Gabriella, terza parte di Sabrina, uscita lo scorso 24 gennaio su Netflix, premessa doverosa, visto che è passata nemmeno una settimana da quando appunto gli otto episodi, però sono otto episodi, se ne vanno via così, c'era tutto il weekend, vabbè, visto che non è passata nemmeno una settimana, tenterò il più possibile di non farvi spoiler, anche se appunto nel dialogo con voi qualcosa, qualcosa può sempre uscire, perciò, come dire, spettatori avvisati, spettatori mezzi salvati, fate voi i vostri conti. Allora, ormai quanti anni sono? Sono un paio d'anni che viviamo con la nostra, sì, sono due anni, che viviamo con la nostra streghetta di quartiere, Sabrina. Sabrina nasce come un fumetto negli anni 60, precisamente nel 62 Darcy Comics, ha una veste decisamente pop, ed è la veste pop, colorata, simpatica, ironica, ed è la veste con cui l'abbiamo conosciuta noi negli anni 90, con la serie live action e poi con il cartone animato, che forse il cartone animato arrivava più verso la fine dei 90 e inizi anni 2000. Nel 2014 la stessa Arcy Comics fece un reboot di Sabrina, in chiave invece molto dark, ma molto, molto dark, e la serie tv Netflix, appunto, partita un paio d'anni fa, siamo arrivati alla terza parte, ha fatto la trasposizione live action proprio di questo reboot, quindi con la versione più scura, più creepy che è Sabrina. Nella versione di Arcy Comics i toni sono decisamente più intensi e più maturi rispetto a quanto vediamo poi nella serie. C'è da dire che è tutto ricollegato comunque all'universo di Riverdale, fumetto sempre l'Arcy Comics e sempre serie poi ripresa da Netflix, tant'è che Sabrina è ambientata a Greendale, che è una città molto vicina poi a Riverdale e ci sono un po' di... strano che ancora non abbiano fatto nessun crossover, ma io me l'aspetto da un momento all'altro, arriverà, secondo me, arriverà, arriverà il momento del crossover. Per qualcuno, inizialmente, soprattutto ne abbiamo parlato in questi anni, soprattutto quando era stato annunciato il progetto, ovviamente chi non conosce il fumetto aveva storto un pochino il naso, ma come Sabrina così, ma come Sabrina quelli, ma dove è Salem, ma perché non c'è Salem, ma perché Salem arriva, non parla, o è un personaggio così meno, come dire, meno importante, definiamolo in questa maniera, rispetto appunto alla serie comica che sembra essere stato sostituito da Ambrose, semplicemente perché appunto nel fumetto è praticamente così, quindi hanno fatto dei cambiamenti, cercando però di essere il più fedeli possibile del fumetto, che già di suo stravolgeva del tutto il mood poi di quella che era la Sabrina, che abbiamo da sempre conosciuto, con cui siamo cresciuti, si può dire. Sabrina è stata divisa, è una delle serie Netflix arrivate con questa divisione che invece di chiamarle stagioni le chiamano party, ma poi obiettivamente sono stagioni, in realtà perché passa pochissimo tempo da una stagione all'altra, proprio a livello cronologico e narrativo della storia e quindi per una sottospecie di continuità, chiamiamola così, cercano di... le chiamano party, no? Pensate anche, non lo so, alla Casa de Papel, a quello che era stato poi tutta la struttura della Casa de Papel, arrivata come una miniserie in Spagna, portata da Netflix e divisa in più parti, infatti in due stagioni. Il senso è un attimino... è un attimino quella, differenza, non so, di un Stranger Things che invece da una stagione all'altra passano effettivamente gli anni e infatti viene definito, vengono chiamate stagioni. 24 gennaio, quindi è uscita questa terza parte, facciamo un sunto velocissimo prima di entrare a bomba, guardarci il trailer e quindi iniziare a parlare della serie. La prima parte si era mostrata essere particolarmente teen, doveva appunto presentarci l'universo di Sabrina, Sabrina che è alla vigilia dei suoi 16 anni, visto che è la figlia di uno stregone e la figlia di una mortale, perciò una mezza strega, alla vigilia dei 16 anni doveva appunto decidere quale percorso perseguire, quindi se la via della notte oppure la via della luce, se scegliendo appunto di essere una strega, come volere poi delle zie, visto che è cresciuta da streghe, o seppure continuare a restare sulla terra, perché ovviamente scegliere di essere una strega vuol dire poi rinunciare a una serie di cose. Sabrina però come tutti gli adolescenti ovviamente vuole tutto, vuole poi la moglie ubriaca e la botte piena e questa è una caratteristica del carattere di Sabrina che in realtà è mantenuto da sempre e viene mantenuto poi anche nel corso di queste parti, della prima, della seconda e della terza parte, secondo me anche della quarta parte, perché insomma il lupo perde il pelo ma non di certo il vizio e chi ha visto la terza stagione, la terza parte, sa bene di cosa parlo e soprattutto sa perché dico queste parole. Quindi da una parte affascinata dalla magia e dall'altra non vuole rinunciare ai suoi amici e al suo amore mortale al vivere sulla terra. Quindi insomma diciamo che riesce a trovare a un modo suo il modo per ottenere appunto la botte piena e la moglie ubriaca, cercando di non firmare il libro della bestia ma diventando comunque una strega riuscendo a restare in contatto a vivere comunque sulla terra. Quindi c'è questa prima stagione molto teen dove ovviamente la scelta di Sabrina viene rappresentata come tutte le scelte che bisogna fare quando si è adolescenti, tipo che cosa vuoi fare da grande, dopo la scuola cosa vuoi fare, che percorso vuoi intraprendere e cose di questo genere. Sabrina alla fine è un vero e proprio coming of age, è il lasciarsi alle spalle l'infanzia e il capire che si sta per entrare nell'età adulta, ci si sta affacciando all'età adulta. E facciamo questo percorso con Sabrina in modo molto ironico, brioso, un po' soffriamo con lei, entriamo in empatia con lei. Quindi una prima parte molto molto teen e per quanto riguarda i toni horror in realtà è un pochino più spooky, definiamolo così, creepy, non è veramente horror. Le atmosfere secondo me cambiano. Sabrina Amatura è la stessa serie poi di Sabrina Amatura con la seconda parte. Diventa tutto anche per quanto riguarda tutta la parte oscura, arcana, quasi blasfema a un certo punto perché Sabrina viene quasi paragonata a una sottospecie di Gesù Cristo, più che un vero e proprio anticristo. Inoltre scopre il gusto del potere, rimane talmente tanto affascinata al potere e sapete, la storia ci insegna che il delirio di onnipotenza poi avere troppo potere tra le mani fa sempre perdere un po' la bussola e in effetti vediamo in questa seconda parte dove Sabrina farà determinate scelte che poi la porteranno anche a sacrificare altre cose e soprattutto in particolar modo le amicizie e gli amori della vita mortale ma soprattutto in realtà non rendersi neanche conto di quello che sta perdendo anche per quanto riguarda il contesto magico, gli affetti stessi, come si sta allontanando e il velo che alla fine si sta mettendo addosso. Qui in una seconda parte quasi più tetra, definiamola così, la parte più oscura di questo intero progetto. Arriviamo adesso alla terza parte dove c'è stata un po' una via di mezzo, non a tutti è piaciuta questa terza parte, così lo dico subito immediatamente, a me non è dispiaciuta, ma in effetti fra le due è forse quella con più difetti o meglio come in qualsiasi saga, trilogia, ma anche stagione, seriale che si voglia c'è sempre quella stagione, quella parte che è un po' la terra di mezzo no? La stagione che quasi non accade nulla ma perché serve a preparare il terreno che raccoglie un po' i semi da una parte ma li rigetta dall'altra, appunto che sta nel mezzo che non è né carne né pesce. Questa terza stagione è un po' così, se tra l'altro in questa terza stagione di semi ne vengono seminati pure troppi, non è un caso secondo me che questa terza parte si chiami caos, perché il caos regna non solo da un punto di vista narrativo ma anche da un punto di vista un po' della struttura, di come hanno gettato ecco le radici di questa terza parte che non ovunque hanno proprio attecchito. C'è chi parla di buchi di trama, io non credo che si tratti veramente di buchi di trama, io credo che tante cose sono state volutamente lasciate in sospeso, sicuramente se c'è una cosa che hanno fatto è aver messo tanta carne a cuocere, soprattutto per quanto riguarda i personaggi perché sì, Sabrina potrà pure essere la protagonista ma ci sono tanti altri personaggi e non sempre sono messi sullo sfondo, anzi spesso e volentieri poi sono parti fondamentali del racconto, vuoi per tematiche, vuoi per proseguimento della storia o per altre motivazioni ecco in questa terza stagione ci sono talmente tante linee narrative che secondo me loro stessi hanno fatto un'enorme fatica poi a tirare le redini anche perché li hanno fatti crescere tutti talmente tanto in queste due stagioni che a un certo punto in questa terza stagione la storia si è trovata secondo me quasi un po' una storia importante tra l'altro con due trame, diciamo così, si è trovata quasi soffocare da tutti questi personaggi e da quelle che poi sono le linee narrative personali di questi personaggi adesso senza andare oltre, cioè prima, non senza, prima di andare oltre vediamoci insieme il trailer e poi continuiamo il trailer, vi metto il vero trailer perché sapete era stata presentata prima un video musicale che adoro, che adoro, come tutte le cose di Sabrina e poi un trailer vero e proprio la canzone tra l'altro è quella delle video musicale non ci sono sempre questa non è solo Hell, è tutto Nick la balanza è in Hell, quindi è in Heaven quindi è in Heaven, quindi è in Earth per preservare un realm, devi protegere da tutto Embrace your destiny, Sabrina Hell's under new management now Are you sure you want to do this? Will you help me? Here we go again If you want the crown You're going to have to prove yourself worthy of it That's my girl Being queen of hell isn't a summer job You're putting the coven in peril Just so you can see your boyfriend Forget about me You have a coven to save Save Greendale, my family, my friends Everything I love All right, see you long Let's finish this Honestly Zia Zelda Da sempre un grande mito Allora, adesso A parte i palesi riferimenti Che ci sono anche a Midsommar Per non si sa Quale oscuro motivo Non so se avete notato Le streghe vestite di bianco Con i fiori Mi hanno fatto molto molto sorridere Ciao Whites Benvenuto Bentornato sul canale Quindi in realtà Già dal trailer Vi mostrano Bene o male Quella che è la chiave principale Poi di questa terza parte Se avete visto la seconda parte Le streghe Insomma hanno Diciamo che si sono un po' rivoltate Al loro signore oscuro E Sabrina stessa Ha fatto una grande scoperta Io pure qui Evito magari Di farvi spoiler Però una cosa abbastanza importante E quindi diciamo che Quella che nella prima parte Poteva essere una scelta importante Si mostra essere una scelta banale Essere o strega o mortale Perché in realtà Il destino di Sabrina È già scritto Semplicemente Lei lo deve abbracciare Perché appunto Ha una discendenza Piuttosto infernale E se non Ritornando al discorso Del delirio di ogni potenza Se quindi Sabrina In realtà Inizialmente si trova a essere Restia Nei confronti Di tutto questo È un pezzo alla volta Un passettino alla volta La storia inizia a piacergli Sempre un po' di più Sempre un po' di più Il fascino del male Tutto questo potere Che le scorre nelle vene Il fatto di poter essere considerata Praticamente un dio Se così vogliamo Se così vogliamo definirla Ecco appunto Quindi in questa terza parte Dove il caos regna sovrano Perché ovviamente Se in quello che è un equilibrio E Doctor Strange insegna Anzi Tilden Swinton In realtà insegna Se quello che c'è un equilibrio Dove ci sono determinati pilastri Un pilastro cade È ovvio che tutto l'equilibrio Tutto il ciclo Di un certo susseguirsi di cose Viene messo in discussione È automaticamente Come quando noi pianeti Si allineano Come in Hercules Ed è ovvio Che tutto sprofonda nel caos C'è una motivazione Molto dantesca Questa terza parte Perché in realtà Segue molto il filone Della Divina Commedia Se c'è una sorta di gerarchia Appunto fra paradiso Limbo Terra E inferno Un motivo ci sarà E Dante appunto Lo spiega All'interno della Divina Commedia È un po' In modo furbesco Ma se vogliamo Anche Affascinante Perché è un argomento Che comunque Affascina E sicuramente Sabrina Non è stata la prima A parlarne Ma in tanti In tanti In tanti L'han fatto Appunto Viene ripreso Viene ripresa Questa linea narrativa In realtà All'interno poi Del racconto di Sabrina Di questa parte 3 Ho trovato Tanti riferimenti A differenti Differenti A parte culture Ma anche leggende E miti Vi sorprenderà Addirittura Viene ripresa Un'idea Lanciata Da Wes Craven Con il suo Dracula Legacy Sono rimasta Particolarmente sorpresa Tant'è che mi viene Da pensare Che evidentemente L'idea non è venuta A Wes Craven Ma forse era venuta A qualcun altro Ci deve essere Qualche altra leggenda Che io non conosco Perché mi è sembrato Ora per carità Il citazionismo Ce n'è tanto In Sabrina Abbonda Però ecco Questo Non me l'aspettavo Ma proprio Tra i tanti titoli Di Wes Craven Ecco proprio Dracula Legacy Non me lo sarei mai aspettato Chi l'ha visto Forse avrà Capito a cosa Mi riferisco Oltre appunto Ad aver fatto battere Un attimo I nostri Averci fatto tremare Per un secondo Per tutti gli amanti Dei vampiri E Quindi Appunto Già questo Mette poi Si presenta Un nuovo personaggio Che l'avete visto Per un attimo Il biondone Caliban Che non è L'unico Poi tra l'altro A essere presentato Con il crollo Appunto Delle streghe Da un certo punto di vista Ecco qui Che si rifanno strada Tanti altri miti Quindi vengono Presentati altri miti Come per esempio I pagani Che lì pure C'è stata un po' Di confusione Sono un po' Dei pagani Un po' strani Diciamo così Che venneranno Comunque i vecchi dei Anche qui Ci sono dei grandi Riferimenti E miti greci Veramente tantissimi Riferimenti Che fanno parte Dell'antichità Quindi tante idee Belle Però non particolarmente Sviluppate Proprio perché Erano troppe In tutto questo Ci devi mettere Poi la componente Adolescenziale Ora Lasciando da parte Sabrina Che comunque Sta facendo Un suo percorso Personale Tutto ciò Che la circonda In particolar modo Agli amici Beh inizia a prendere Il sopravvento Tutto quello Che hai seminato Prima Adesso lo devi Raccogliere Lo devi sviluppare E secondo me Da questo punto di vista Il racconto Viene un po' Incastrato Tra l'altro Vabbè Questa è più una parentesi Ironica Ma anche veritiera Netflix A quanto pare Sta tirando su Quella che Potremmo Chiamare Una vera e propria Educazione Sessuale Al mondo Dell'adolescenza Perché dopo Sex Education Devo dire la verità Anche questa terza parte Di Sabrina Abbiamo tutti Hanno tutti Gli ormoni E il testosterone A palla Keywords Di questa serie E tutti nudi O meglio Tutti senza maglietta Anche in momenti In cui la maglietta Ce la potevamo Tranquillamente Tenere addosso E all'improvviso Sparisce Ecco Arrivano personaggi Senza maglietta Che per carità Che uno apprezza Sempre Però ecco Un minimo di coerenza A volte E più E più apprezzato Perché in alcuni momenti Sembra quasi paradossale Sembra una parodia Ecco Divertente Fino a un certo punto Poi fai Signori Rivestitevi Per cortesia La stessa Sabrina La stessa Sabrina Si sveste Più di una volta Però ecco Questo è più costruito Perché poi tra l'altro Sabrina è un po' In questo bilico No? Lei rappresenta Tanto la profanità Quanto la sacralità E riceve Oltre ad essere un adolescente Insomma La carne è carne Non prendiamoci in giro Ma tra l'altro Riceve tantissimi input Soprattutto Dalla parte infernale Dalla parte esoterica E magica Da cui proviene Dove ovviamente La carnalità La sessualità Il peccato La lussuria Sono elementi Molto importanti All'ordine del giorno Pensate già Nella prima parte Di Sabrina Come venivano rappresentati I maghi Anzi Gli stregoni E le streghe Perché appunto Sono votati Poi Al culto di Satana Quindi c'è Tutto questo aspetto Particolarmente Sensuale E sessuale Che si respira Che secondo me In questa terza parte Si respira parecchio Oserei dire Anche troppo Perché a certo punto Parrebbe girare Quasi tutto Intorno là E sì Che è un elemento Molto importante Il sesso E sì Che spesso e volentieri Durante il periodo adolescenziale Lo si vive Come un vero E proprio disagio Però ecco Insomma Il fulcro Della storia Era un altro Diciamo che Cerchiamo di centellinare Meglio Le cose Superflue Che mettiamo Che sì Possono servire Alla caratterizzazione Però fino a un certo punto Senza Esagerare Appunto Senza Perché il troppo Al solito Strocca E quindi Perciò Ecco Le mie perplessità Più grandi Per quanto riguarda Quelli che sono Gli elementi Di difetto Per questa terza parte Credo che si possano Tutti riassumere Praticamente Qui In Quelli che sono Troppe Troppe linee narrative Da seguire Troppi elementi Che affossano Un pochino La storia Al tempo stesso Però ripeto Quelli che secondo me Sono stati considerati Quasi De buchi Di trama Penso che saranno Sono più Cose Volutamente Lasciate Non tanto al caso Quanto più In sospeso Che verranno Indubbiamente Raccolte In seguito Ora ci troviamo Di fronte a una Sabrina Che passi Per la prima parte Perché sei molto Piccola Giustamente E ancora ti devi E molto innocente Molto ingenua Nella seconda parte A questo Questa grande Maturazione Che vuoi Che la fa diventare Anche un po' Troppo grande Anche fin troppo Ambiziosa Questa terza parte Si ritrova Di nuovo Scissa Tra il potere E la famiglia E gli affetti Però ecco Inizia un po' A essere Come tutte le persone Con questo tipo Di carattere Che giustamente Vorrebbero tutto Alla fine Si finisce Per non stringere niente Ricordiamoci Che ogni azione Ad ogni azione Corrisponde Una conseguenza Quindi bisogna Anche saper affrontare Il peso Delle conseguenze Sabrina In questa terza parte Fa riflettere O meglio Gli altri personaggi Fanno riflettere Molto Sabrina Su questo aspetto Anche se è una lezione Che a quanto pare Alla streghetta Dicevo io Che mi sentivo Vattata Continuavo ad avere Le cuffiette Nelle orecchie Vabbè E veramente Ci avviciniamo Davvero Alla fine Della settimana Dicevo quindi Che Sabrina Questa è una lezione Che Sabrina Non ama Particolarmente Imparare Più glielo dici Sembra che abbia capito E invece no Come si suol dire Da un orecchio Gli entra E dall'altro Gli esce Come Succede Nelle persone Che quasi Hanno paura Di essere lasciate Indietro Vogliono fare Di più Per fare di più Vogliono fare Troppo E non gestiscono Poi tutta la mole Di lavoro E di responsabilità Che si sono presi Sabrina Inizia tante cose Ma se poi ci pensate Non le porta mai A termine Questo secondo me È uno degli aspetti Più interessanti Poi di questa serie Al di là Del fatto che sia Una serie Paranormale Una serie Comunque Fantastica E l'aspetto scuro Quello e quell'altro Però ecco Una cosa molto interessante È che Sabrina Secondo me Fa riflettere Su alcune problematiche Che In realtà Molto banali Ma caratteriali Che spesso Tiriamo fuori Durante la nostra fase Adolescenziale E che poi Ce le portiamo nel tempo Se non riusciamo Ad allinearci Meglio Ad equilibrarci Non so se a voi Capita mai A volte è capitato Anche a me Di voler fare troppo E poi Non riuscire A fare quel tutto Perché appunto Non siamo Supereroi Non possiamo Veramente Fare Tutto Bisogna Anche Riuscire a trovare I propri limiti Ecco Sabrina Non riesce mai A trovare Il suo limite Non sa mai Qual è il momento Di dire Basta Non posso andare Oltre Ma vuole sempre Fare di più È un po' Bulimica Ecco Da questo punto di vista E poi appunto Come la bulimia Dove si mangia 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 E poi subentra Quel senso di colpa Quel non riuscire A tenere tutto Tenersi tutto dentro E automaticamente Si vomita Ecco Il senso secondo me È un po' quello Secondo me dovrebbero Incidere un po' No Soffermarsi di più Su questi aspetti Che sono gli aspetti Più interessanti Come poi altre tematiche Che vengono tirate fuori Per esempio Sabrina È una serie Molto attenta A quelle che sono Le tematiche LGBTQ+, Sia per quanto riguarda La sessualità E anche il sesso Appunto E l'orientamento sessuale Che per quanto riguarda L'identità di genere Come per esempio Accaduto con il personaggio Di 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 Sio Che abbiamo conosciuto Nella prima stagione Come Susi Siamo stati Già messi al corrente Di un suo disagio Quel disagio Diventa tangibile Nella seconda stagione Quando appunto Poi Susi decide Di intraprendere Un percorso di transizione Per fare un cambio Di sesso Per Iniziando appunto La classica terapia Che si affronta Quando si ha Quando la propria identità Di genere Non corrisponde Al sesso Con cui Si è nati Questa si chiama Disforia di genere Perciò Anche qui Tante tematiche Importanti Che potrebbero portare Anche a far riflettere Molto belle Che però a volte Vengono un po' Affossate No? Un po' Schiacciate Da Dalla grande Quantità Poi Di cose Che vorrebbero Raccontare Vorrebbero fare Vorrebbero far fare Ai Ai personaggi Per quanto riguarda Le scenografie Io le trovo sempre Molto molto belle Anche i costumi Devo dire la verità Nella seconda stagione C'è stato un grande aumento Di budget In questa terza Forse si sono Un attimo più Ridimensionati Anche se comunque Sabrina Forse la seconda stagione C'erano un po' Più esterni Rispetto A questa terza stagione Questa terza parte Perdonatemi Ogni tanto Mi confondo Ma parliamo di parti E non di stagioni Forse c'erano un po' Più di effetti Anche nella seconda parte Però In questa terza parte Comunque ci sono Tanti personaggi Non mancano Le scene Un pochino più Avvincenti Anche se Eppure Dall'aspetto magico Secondo me Nella seconda parte C'era molto molto di più Per questa terza parte Sono ritornate A quell'effetto estetico Che è voluto Da loro Che non capisco Perché gli piaccia Così tanto Ovvero Quell'effetto sfocato Che è tipico Della prima stagione Della prima parte Non so se vi ricordate Ogni volta che Lanciano un incantesimo Comunque c'è della magia Intorno Si respira della magia Intorno C'è questa sfocatura Fra i personaggi Ritorna in questa terza parte In modo anche Secondo me Non particolarmente Riuscito Perché a volte Sfoca addirittura Proprio le facce Delle persone Che Che sono In scena È una cosa voluta È una roba Assolutamente voluta Che però Così come non mi convinceva Nella prima parte Continua A non convincermi Capisco che È un escamotage Per farci Respirare Quella che È l'atmosfera magica L'atmosfera esoterica Però ecco Secondo me Impegnandosi Un attimino Di più Si poteva trovare Un escamotage Megliore O comunque Rendere l'effetto Meglio Perché sembra Un errore Sembra che il cameraman Sia ubriaco Cioè Sembra che Non sia a fuoco La scena Non sembra Una roba voluta Anche se poi Ovviamente È un qualcosa Di Di voluto Dicevo all'inizio Che questa terza parte Ritorna un po' Più sul teen Sicuramente È un po' Una via di mezzo Appunto Strizza un po' L'occhio Anche quelli che sono stati I classici teen drama Degli anni 90 Anche ci sono molti Riferimenti a Buffy Secondo me E poi ogni tanto Questo lo sospettavamo Dopo che avevamo visto Comunque prima Il giorno prima Del lancio del trailer Il music video Per fortuna Non in modo eccessivo Però in otto episodi Forse ci saranno Tre canzoni cantate Tutte abbastanza giustificate Non è che cantano così Come nei musical Random Sono tutte giustificate È sempre giustificato Il perché stiano cantando Però Sì Si chiude un occhio Secondo me Lo potevamo evitare Non si cade proprio nel trash Ma poco ci manca Ripeto Per me Lo si poteva Lo si poteva evitare Ecco Potevamo Meno Anche me Simpatico È simpaticissimo Il video Però anche meno Ah comunque anche il video Ci anticipava il fatto Che sarebbero stati Tutti praticamente Nudi per lo più Allora Vediamo Vediamo che se mi Anche perché in questo Momento Non mi viene in mente Nient'altro Non so se vi viene in mente Cioè Adesso leggo i vostri commenti Credo di avervi detto Praticamente Praticamente tutto Sicuramente E visto che ci sono Nelle canzoni C'è una componente musicale Un po' più Intensa Ecco Però Credo di aver trattato Tutti i punti Per quanto riguarda Questa Terza parte Scusate Forse ogni tanto Sono stata un po' Confusionaria Pure io sono stata Presa un attimo Dal Del caos Evidentemente Non ho dato Una delle mie Spiegazioni Più Più chiare Forse Non è stata una delle mie Live Più Più precise Allora Ciao a tutti quanti Whites Matteo Precons Ciao Chiare Ciao Gabriele A me la terza stagione Sabrina è piaciuta parecchio Sono stracurioso Per la quarta Che a te è piaciuto Molto 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 A me è piaciuta Non è dispiaciuta Però ecco Come ho già detto Per tutto questo tempo Per me non è esente Da difetti Ma ovvio che la quarta parte L'aspetto Anzi È sempre troppo breve Sabrina Dovrebbero sempre Fare qualcosa Qualcosa in più A me continua A essere una serie È una serie Che mi ha conquistata E continuo a volerle Particolarmente Particolarmente Bene Ecco Forse 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 Si nota Giusto Giusto un pelo Giusto un pelino Allora Ciao Cecilia Ah è paranormale Diciamo Si è eccessiva E l'ho notato anche Durante certi discorsi Soprattutto nella seconda Puntata Ah le sfocature Allora non l'avevo notata Solo io Meno male Stavo già per prenotare Una visita all'oculista No 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 Anzi Io La cosa Della visita all'oculista L'avevo pensata Nella prima parte Perché in effetti Nella prima parte Di Sabrina Quella uscita un paio D'anni fa Era veramente Ma sono io Perché poi era probabile Insomma Visto che sono Orba Ma sono io O è veramente L'hanno Anche perché Era molto più probabile Che fossi io Che invece Della scelta stilistica E invece Era proprio Una scelta stilistica Sì è vero È veramente Troppa È veramente Troppa Una parola Per definire Questa terza parte Shirtless Eh infatti sì È infatti sì È incredibile Ma ripeto In fondo nel video Quello del music video Ce l'avevano un po' Fatta puzzare Diciamo Odorare questa cosa Ma ecco Mi sembrava Un po' Un po' Troppo Non ho visto la serie Nemmeno una stagione Dice Non ho visto la serie Nemmeno Nemmeno una stagione Ciao il solo Niente Non ho visto Non ho visto Dai vedete Secondo me La potete Per me non è Un vero e proprio Guilty pleasure Cioè per essere Un guilty pleasure Devi essere Molto inferiore A Sabrina Per me un guilty pleasure Parlando di teen drama Potrebbe essere Pretty little liars Per esempio Ecco Molti sono super fan Di Riverdale Che so che Ha preso fin da subito Una piega Non particolarmente Simpatica Un po' Disastrosa Però piace E molti lo definiscono Guilty pleasure Per esempio A me Riverdale Non ha mai preso Io ho iniziato Ho iniziato Un paio d'anni fa Un paio d'anni fa L'anno scorso Forse a vederlo Ho visto due episodi Pensavo di averne visti Cinque E invece Quando mi sono resa conto Che erano solo due episodi Che avevo visto Ero tipo No Non è possibile Quindi Non è proprio per me Non è assolutamente Una serie per me Ma secondo me Sabrina Non può definirsi Proprio Un guilty pleasure Sabrina Così come Sex Education È la perfetta serie Da binge watching Il problema esatto È che ora C'è da aspettare Troppo per la nuova stagione Bravo Chiara Oppure secondo me È una serie perfetta Da binge watching Qualcuno dice Bah guarda A me è annoiato Sono punti di vista Io per esempio Non riesco ad annoiarmi Con Sabrina È una serie Che per tutte Queste tre parti L'ho vista Con lo stesso Modus operandi Ovvero Tutte in botta Letteralmente Tutte in botta Cioè 8 ore di serie 8 ore Di Gabriella Davanti Alla televisione Anzi Questa volta Splittate Ma in realtà In meno di 12 ore Ho visto Tutta questa terza parte Per me Si presta Ecco Proprio La serie perfetta Per binge stream Perché si presta Appunto Perfettamente Al binge watching La trovo Molto Molto ritmata E poi A sempre ora Per quanto alcuni Possono essere Più scontati Di altri Ogni episodio Finisce con un cliffhanger Cioè ti porta Proprio A A A A vederla A volerla A voler continuare La La visione Magari sono io Che sono Troppo affezionata A Sabrina Ma secondo me È Una buona serie Con degli alti E dei bassi Ecco Ripeto Questa terza parte Poteva Poteva dare Qualcosa in più Poteva sicuramente Dare qualcosa in più E potevano fare Un po' ordine Delle idee Sono stati così I presi Dalla logline Che era Chaos Che si sono appunto Fatti trascinare Un po' Nel caos Io appena controllato Sono ferma Alla prima stagione Conclusa È troppo tin Per i miei gusti Ma guarda Devo dire la verità La prima stagione Però è quella Più tin E c'è un enorme Cambiamento Questo per esempio L'avevamo L'avevano riscontrato Un po' tutti Anche poi Nel fare le recensioni Della prima Alla seconda parte Non dico che Passi un oceano Ma poco ci manca Perché cambiano Proprio i toni Secondo me C'è un forte cambiamento Ecco perché poi Si sono notati Di più i difetti In questa terza parte Perché c'è un mezzo Passo indietro Della prima parte Alla seconda parte Invece Per quanto poi Comunque sia Una serie di Matrice tin Ma si apre Molto di più Matura Tantissimo Quindi se io Fossi in te White Un'altra possibilità Gliela darei Matusa Ecco Mannaggia Voi è Firefly Seconda diventa Più adulta Si no è vero È più adulta Piero Chiama White Matusa Ovviamente No secondo me La seconda parte È molto molto più Più adulta A parte appunto Hanno questi deliri Di blasfemia Che io ho amato Alla follia Ma veramente Incredibili Ci sono degli attimi Di panico E follia Praticamente In quelli Green Dale Ma si Mi aspettavo Che da un momento All'altro Qualcuno Porconasse Qualcuno tirasse Un bel bestemmione Perché Forse in realtà In America Non esiste Non so se loro Hanno Il nostro Vabbè Non dico niente Però non so se loro Hanno In inglese Delle traduzioni O se sono soliti Bestemmiare Però ecco Mi aspettavo Un porcone Da un momento All'altro Perché ci stava Cioè erano proprio Partiti tutti quanti Per la tangente Oltre al fatto Ecco La seconda parte Ha un focus Maggiore Anche sulla religione Un po' Come inteso Tutta la storia Di Lucifero Che vabbè Si conosce E La continua Battaglia Tra angeli Inferi E demoni E cose varie Assolutamente Il fatto di essere Considerati De messia E vabbè De profeti E cose di questo genere Questa terza parte Invece Abbandona Un po' La canonicità Del Cristianesimo O cattolicesimo E si abbandona Verso Altre Altre Sponde Comunque Netflix Voleva mi rivedessi Sabrina dall'inizio Perché mi ha cancellato La visualizzazione Le prime due stagioni Sai Gabriella Qual è il problema Più grosso di Sabrina Stanno facendo troppo Power playing Ma Si che questo È un grosso rischio Quando si parla Di personaggi Divini Secondo me È un rischio In cui è molto facile Incorrere Per me Nel caso di Sabrina È abbastanza logico Cioè Soprattutto Sabrina In effetti Sembra Un personaggio PP Come si direbbe Appunto Chi dice Quando si gioca A giochi di ruolo Appunto Power playing Dove Sabrina È quel classico personaggio Che Adesso ti colpisco Fa la mossa Non aspetta Che tu ti ridadi Per vedere No aspetta un attimo Zio Fammi vedere Se riesco a difendermi No Ti ho colpito Ti ho inflitto Un danno incredibile Guarda Sei quasi morto Ma Il tempo di replica Non si gioca così Ecco Sabrina È un po' così In effetti Credo che però Sia dovuto al fatto Che Stia anche iniziando A calibrare I suoi poteri Ma che non Prende in considerazione Che Anche queste Sono delle scelte Sono delle azioni Ci sono delle conseguenze Sabrina non prende Mai in considerazione Le conseguenze Di quelle azioni E secondo me Questa quarta parte Sarà il momento In cui vedremo Più sprofondare Sabrina Cioè me lo auguro Perché in teoria Adesso Beh Devi iniziare Chi semina Vento Raccoglie Tempesta Sta tempesta Te deve arrivare Addosso Anche perché Questa terza parte Finisce Con L'ennesima Grossa Grossissima Stronzata Compiuta da Sabrina Perciò E non è una roba Da poco C'è chi non è piaciuta Quella roba Che dice No ma dai Ma come è possibile Secondo me è possibile E ora vedremo Tutto quello che succederà Cioè vedremo Fra un anno Vedremo Quello che succederà L'inglese Non credo che abbia La varietà Invidabile I bestemmioni Di cui è fornita La lingua Italiana Esatto Sabrina I suoi difetti Ma nel catalogo Netflix C'è molto peggio Beh assolutamente Sì Chiara Questo non c'è Obra di dubbio Ma ripeto Per me Sabrina Rimane una delle mie Serie del cuore Nell'ambito teen Probabilmente uno Dei miei prodotti Preferiti Di Netflix Non Non mi faccio Nessuna remora A dirlo Ah cioè Ripeto Per la trecentesima Volta Penso che Si noti Sapete anche Quanto mi piace Fare Il cosplay Di Sabrina Tra l'altro Trovo Kierna Schivka Veramente Molto Molto brava Altre che Una bella ragazza Nel fiorfior Dei suoi anni Che sta proprio Sbocciando Anche perché Lei è ancora Tutta così Perfettina Morbidina Carina Quindi Poi trovo Un ottimo Cast all'interno Di Sabrina Tutti quanti Appunto la Sabrina Ambrons Prudence E le stesse Zia Hilda Zia Zelda Secondo me Sono perfette A me non dispiace Nemmeno Lucifero Potevano fare Qualcosa di più Ecco Su Lucifero Per quanto Luke Cook Mi piace Tanto come attore Molto bravo Però Mi aspettavo Qualcosa di più Su Lucifero Potevano secondo me Marcare Ancora di più La mano Lilith L'adoro La Forlia Sono tutti attori Fantasi Seguo tutti su Instagram Tra l'altro Mi fanno ogni volta Tagliare Dalle risate Sono fantastici Perciò Io La trovo Un'ottima serie Comunque Con i suoi alti E con i suoi bassi Soprattutto Le lingue venete Dove la bestemmia La punteggia lol È vero Ma a proposito Di Sabrina Ti sei resa conto Che un person Io non la volevo Alzare Questa polemica Una contenta Il solo Allora Il solo Evidenzia Un elemento Di cui Ho tanto Ho Abbastanza Parlato Domani Continuerò A parlare Con un video Dedicato Alla questione Che si chiama Misgendering Loro hanno fatto Nei sottotitoli italiani C'è un errore Prima vi parlavo Appunto Che ci sono Delle tematiche LGBT Soprattutto Riguardante Un certo personaggio Appunto Quello di Tio Che è un ragazzo In transizione Un ragazzo trans Nei sottotitoli italiani Solo nei sottotitoli italiani Non nel doppiaggio italiano Ma solo nei sottotitoli italiani Ogni volta Che si fa riferimento a Tio O parla Tio Viene usato il femminile C'è sempre il femminile Sempre Costantemente Ed è sbagliato Perché Tio Non è una donna È un uomo Non devi usare il femminile Devi usare il maschile Adesso Qua Insomma Non vogliamo dubitare Della buona fede Del traduttore Barra traduttrice Ci sarà stato Magari Appunto Mi dicevano Che giustamente Spesso e volentieri I traduttori Della Tipo di questa terza parte Magari non hanno mai visto Sabrina Non sanno che è successo Nella seconda parte Quindi ecco Magari Se non vedi Una nota a piedi pagina Ti puoi un po' Stranire Anche se Anche se I sottotitoli in italiano Non sono facili Non è la trascrizione Del doppiaggio italiano Ovviamente E anche lì Comunque l'errore Non ci sarebbe dovuto essere Ma Ovviamente Sono la trascrizione Poi di quello che senti In originale In inglese Se non addirittura Del copione Non so no Forse in originale In inglese Praticamente Quindi non vedo Come sia possibile Sbagliare Perciò in questo caso Si parla In realtà In questo caso Specifico Più che parlare Di un errore Di traduzione Perché al di là Dell'errore Di traduzione Quando stiamo parlando Di cannarsi Che ha Dato una sua Libere interpretazione Ai testi di Evangelion E chissà cosa succederà Con lo studio Ghibli Ma parliamo più Di un Un errore Che viene definito Misgendering E capita Quando si parla Di una persona Transessuale E si riferisce A questa persona Con appunto Desinenza Pronome O articolo Che fa riferimento Al suo sesso di nascita Che in realtà Non è il sesso Reale Di quella persona Perché appunto Se una persona trans Evidentemente Sta cambiando Quel senso Però una volta Che tu inizi La transizione Sarebbe buona cosa Che gli altri Si rivolgessero a te Con articoli Desinenze E pronomi Dell'identità Di genere Che a cui senti Di appartenere Perciò Ecco E Il discorso È questo Comunque Tanti L'hanno Riferito A Netflix Molto indignati Perché poi Giustamente È una questione Di rispetto Non solo Per chi Ha scritto Il personaggio Per l'attore Che tra l'altro È un attore No binary L'attore Che interpreta Appunto Tio Che ha fatto Un percorso Simile Nato Con il suo Sesso Biologico E femminile Non si è mai Riconosciuto In quel Sesso Biologico Aveva iniziato Una fase Di transizione E poi Invece Ha deciso Che non Non si sente Di appartenere Né Al genere Femminile Così come Inteso La nostra società Né al genere Maschile Quindi appunto È una persona No binary Quindi una mancanza Di rispetto Nei suoi confronti Del lavoro Che ha fatto Su quel personaggio Del fatto Di aver messo Comunque A disposizione Di quel personaggio La sua esperienza E anche Delle persone Che possono Empatizzare Appunto Con Tio Perché stanno Affrontando La sua stessa Situazione Oltre al fatto Che poteva essere Una buona Occasione Per insegnare Qualcosa A chi Non sa le cose E invece Vabbè Per colpa Di questo errore C'è stato Un po' Di maretta Un po' Di maretta Soprattutto Cose di questo Genere Si notano In particolar modo Quando A parte che Sei comunque Un grande Gigante Dello streaming E per quanto Errare Sia umano E' meglio Non farli Se si può E' meglio evitare Perché non dovresti Cioè Dovresti avere Abbastanza soldi Da pagare Dei professionisti Che non devono Commettere Questo genere Di errore Che può essere Di natura Grammaticale O etica O morale O qualsiasi Altra cosa A tempo stesso Netflix Sempre è stata Così attenta Alle tematiche LGBTQ TQ Plus Che quindi Il naso Lo storci due volte Perché ci fai Ancora più caso Però Ma anche il parlato italiano Li parla di sé Come una ragazza Nella seconda stagione Ancora Va bene Nella seconda stagione Sì Quando Quando ancora È Susi Però Una volta Che diventa Tio Che inizia Che dice Perché nella seconda stagione Ci sono un paio Di episodi Focalizzati Su Susi Quando Sabrina Ha il suo delirio Assurdo E dice Ah io posso fare Tutto quello che vuoi Vuoi essere un uomo Tu ora diventi un uomo Sarebbe meraviglioso Il coraggio di ammettere Che non si sente una donna Si sente un uomo Tant'è che dice Da questo momento Io sono zio E lì poi Cambia La desinenza Il pronome Verso la fine Della Della seconda stagione Questa cosa qua Però Quando a te Quanto a quel Che non puoi fare Tu per te Qua Lo state citando Cannarsi Vorrei farmi La maglietta Come Lol Ricordiamo Che da dopo domani Potremmo ammirare Le classiche perle Di Cannarsi Sì esatto Infatti Adattamenti Nel film Studio Ghibli Che arriveranno Su Netflix Ma è sicuro Che sono state affidate A Cannarsi Cioè Mi state dando Questo enorme dolore E dispiacere Cioè È veramente così È successo È successo davvero Sono le classiche Sono dieci anni Che le fa Cannarsi Ah no L'ha sempre fatto Ma io le ho sempre viste Ma Parlate di sottotitoli Io ammetto Ora faccio Questo enorme Outing Ammetto di aver sempre visto I film dello studio Ghibli In italiano Il dio bestia Però dio bestia È bello Scusatemi È un È il dio Beh Cioè È un dio No no Dialogo italiano Ha scritto E quindi non ci ho mai fatto caso Perciò Non potevo saperlo Far ridere È assenso No Non è assenso Ha assenso Vabbè Vabbè Quindi è visto solo Cannarsi Guardate questo slideshow Va bene giovani Vabbè stiamo andando off topic Stiamo andando palesemente off topic Comunque Chiuse le polemiche Chiuse le recensioni Giovani La terza parte delle terrificanti avventure di Sabrina Vi aspetta su Netflix Noi con Biggestream ci vediamo settimana prossima Parleremo di una nuova nuovissima serie su Lega Nerd Ne parleremo veramente tanto 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 Quindi mi raccomando Vi aspetto Stesso orario Suppongo di sì Stesso orario E Mi trovate sui social Sempre come Gabriele Croix Gabriele Croix Anche qui Su Twitch Se vi va di seguirmi ancora Quindi ci vediamo nei prossimi giorni sul mio canale O stasera alle 21 Dai Cugini Multiplayer Se non l'avete fatto Mi raccomando Seguite Lega Nerd Seguite il canale Twitch Il canale YouTube Facebook Di Lega Nerd Iscrivetevi Se avete Twitch Prime Abbonatevi Perché col Prime è gratuito E se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi su Facebook Al nostro Lega Nerd Social Club Noi ci vediamo con un prossimo appuntamento Ci vediamo settimana prossima Fate bravi Non disseminate panico Usate pronomi giusti Perché è molto importante usare i pronomi giusti Ci vediamo alla prossima Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.